figliolo fai attenzione ai botti di capodanno possono essere molto pericolosi negli ultimi cinque anni in italia 1200 deficienti ci hanno rimesso chi un dito chi una mano chi un occhio chi un coglione va bene papà figliolo 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 mio ho perso il braccio ho perso un braccio sì ma veramente io mi preoccuperei del fatto che hai perso la testa si ma il braccio lo adopero usa la testa fai attenzione ai botti di fine anno e condividi